Tratto dal best seller di Stefania Ucci. Palermo è una città ricchissima. Quella che vi sto offrendo è una grandissima opportunità per il progresso. Se volete qualcosa non mi fate scrupoli per averla. Che uomo è Vincenzo Florio? Che tu sia maledetto? Noi Florio non abbiamo santi in paradiso. No, non è il titolo. Non abbiamo i piccoli. Papà, tu sei solo. Ti ci vuole una femmina. Sì, per partare il nostro canale.